Oggi cucineremo le costine all'americana con cottura lenta e a bassa temperatura il taglio di carne da utilizzare è quella di un costato di maiale taglio st louis la prima operazione da fare è quella di eliminare la pellicina che ricopre tutto il costato è un'operazione abbastanza noiosa ma con un po di pratica si può fare in modo semplice rapido utilizzando un coltello affilato infilare prima la punta e poi il resto del coltello per sollevarla dalla carne una volta fatto possiamo tirarla semplicemente con le dita per staccarla a prescindere dalla ricetta o dal tipo di cottura questa operazione va fatta per permettere ai condimenti di raggiungere la carne in alternativa si comporterebbe come un guanto isolandola dal rab e rendendo il sapore un po più amaro perché è la prima a bruciarsi anche se lavoriamo in casa cerchiamo di rispettare la pulizia e le norme di igiene indossiamo dei guanti per alimenti così da non enricchire di batteri ciò che stiamo preparando giriamo il costato e facciamo pulizia dall'abbondanza di grasso le costine vanno sgrassate non è piacevole addentrare un boccone di grasso puro perciò vanno pulita dal grasso abbondante attenzione non va completamente eliminato ma solo sgrassate procediamo con asciugare con attenzione da eventuali residui di sangue umidità il nostro pezzo di carne per questa operazione possiamo utilizzare della normalissima carta da cucina ripetiamo le stesse operazioni fatte in precedenza per ogni costato che abbiamo a disposizione e da preparare per la cottura nel mio caso taglio a betai i costati ma questo solo perché il mio supporto per le costine non permette di utilizzare le intere più avanti nel video si capirà il perché procediamo con il cospargere di senape francese o mostarda i nostri pezzi di carne la senape è una componente acida aiuta perciò ad abborbidire la carne e aiuta il nostro rub a rimanere attaccato molto bene eseguiamo quest'operazione su entrambi i lati di tutti i pezzi di carne che abbiamo a disposizione per insaporire i pezzi di carne utilizzerò due tipi diversi di rub il primo è un cowboy rub abbastanza leggero dove la sua componente principale è la paprika dolce il secondo invece è un cowboy rub dal sapore sostenuto dove la componente principale è il chili piccante entrambe le ricette sono disponibili sul mio blog spolveriamo in modo abbondante e completo così da ricoprire entrambi i lati del pezzo di carne e cerchiamo di raccogliere il rub caduto come se dovessimo impannare la carne eseguiamo la stessa operazione per tutti i pezzi di carne che abbiamo a disposizione nel mio caso userò due metà di costato con un tipo di rub e le altre due con il secondo rub io utilizzo un supporto per le costine in modo da tenerle in verticale durante la cottura ho scoperto che la cottura avviene in modo più omogeneo e non devo mai girarle inserisco tutti i pezzi di carne ecco ora siamo pronti a portarli sul barbecue che ho già impostato per una cottura lenta per le prime tre ore a 110 gradi centigradi